benvenuti in questa nuova video lezione oggi vi parlerò delle tecniche di colorazione all'interno di illustrator e lo farò mostrandovi i diversi strumenti messi a disposizione dal software stesso dovete sapere che all'interno di illustrator abbiamo più modi per colorare i nostri tracciati vediamo quindi quali sono questi modi innanzitutto notate ciò già dei tracciati creati all'interno del mio foglio il primo metodo è quello più semplice per colorare quindi queste forme vettoriali e consiste nell'applicare colore di riempimento e traccia scegliendoli all'interno della barra e quindi del pannello di sinistra dove abbiamo quindi questi selettori e qui per esempio possiamo cliccare due volte su questo selettore per avere i varianti e quindi per poter selezionare il colore desiderato quindi è molto semplice perché basta scegliere il colore da questo selettore basta cliccarci su questa su questa tavolozza e quest'ultimo quindi questo colore sarà poi con un click inserito all'interno del mio della mia forma come riempimento quindi faccio ok faccio ctrl z per ritornare indietro e per farvi vedere la differenza quindi clicco due volte sul selettore dei colori scelgo il colore di riempimento posso intervenire anche su questo strumento per scegliere la tinta faccio ok e quindi questo colore mi riempie la forma vi faccio notare ancora facendo doppio click sul selettore dei colori che questa immagine ha dei valori in percentuali i valori sono situati in base a delle corrispondenze di c m y e k più avanti nelle lezioni vi spiegherò la differenza e comunque andremo a sicuramente a perfezionare questo discorso però già da qui notiamo che questo questa forma e quindi questo disegno può essere variato quindi i colori di trama all'interno di questo di questo disegno possono essere possono essere cambiati intervenendo su questi valori sul valore di c ciano m magenta y sarebbe giallo yellow e il colore che è qui sarebbe quindi il colore che mi dà la possibilità quindi di intervenire sui neri e quindi intervenendo su questi valori ho anche la possibilità di cambiare il colore del disegno stesso e quindi di riempimento solo un appunto per dirvi che gli oggetti quindi i disegni e i vettori o comunque le illustrazioni create con questo metodo c m y k sono quelle illustrazioni pronte per la stampa anziché per il web perché per il web possiamo intervenire direttamente su rgb come già detto in precedenza con dei valori situati in queste in queste tre caselline possiamo notare ancora che nel momento in cui noi andiamo a selezionare il colore quindi scegliamo nuovamente un altro colore per esempio scegliamo questo colore facciamo ok notiamo che questo colore viene inserito direttamente nel pannello della guida dei colori e così da poter poi effettivamente come già abbiamo fatto in precedenza inserirlo poi nei campioni in modo tale in modo tale che ogni volta che vogliamo ottenere ecco così col trascinamento così come abbiamo fatto già in precedenza ogni volta che vogliamo ottenere questa trama questo questa tonalità di colore ce la troviamo già nei campioni e quindi salvata oppure come già visto in precedenza scegliere una riga intera da poter salvare all'interno della nostra della nostra scheda dei campioni possiamo ora cambiare il colore del del contorno e quindi con questo strumento questo strumento è sempre il selettore dei colori per quanto concerne però il contorno faccio doppio clic si apre questa sempre questo pannello dove ho la possibilità di selezionare un colore quindi seleziono un colore e faccio ok per cambiare per cambiare quindi il contorno vedete notate che il contorno ha un colore diverso ora dovete sapere che oltre alla possibilità di creare queste queste tinte unite quindi all'interno delle nostre forme possiamo anche creare dei gradienti e quindi delle sfumature e per fare ciò innanzitutto vado a selezionare la forma che devo colorare faccio doppio clic sullo strumento gradiente si apre la schermatina notate che è un pannello dove ho la possibilità di variare i colori e quindi la sua la sua sfumatura di colore anche questo strumento è molto semplice da utilizzare perché una volta che abbiamo selezionato la nostra il nostro vettore quindi la nostra forma io clicco sul su questo quadratino ecco cliccando sul quadratino ho la possibilità di avere un riempimento sfumato all'interno della mia stella questo riempimento che ho ottenuto è un riempimento lineare possiamo poi andare a modificare a riempimento radiale vedete mi parte dal centro e si estende fino alle punte ovviamente possiamo portare delle modifiche a queste sfumature per esempio possiamo invertire i gradienti di colore quindi dal bianco al nero o dal nero al bianco possiamo ancora intervenire spostando questi selettori sulla differenza di sfumatura quindi se dare più bianco oppure più nero e possiamo ancora decidere per esempio sempre utilizzando questo strumento di aggiungere dei colori all'interno di questa sfumatura utilizzando sempre questo strumento faccio un doppio clic avrò questo pannello questo pannello mi dà la possibilità di avere una ulteriore tavolozza di colori quindi aggiungo magari questo colore ecco con una magari opacità dell'80% e ancora possiamo aggiungere degli altri colori e quindi intervenire vedete su delle su delle tonalità mettiamo meno nero aggiungiamo ancora il più bianco spostiamo quindi posso intervenire all'interno di questo selettore colori per dare delle sfumature delle sfumature diverse quindi in base a dei colori che noi stiamo scegliendo in questo momento ancora possiamo andare a intervenire sulla sull'angolo sull'angolatura che avrà questa questa sfumatura e quindi andare a creare magari un angolo di 45 gradi ecco per avere queste linee messe così rispettando questo valore ho 30 gradi oppure meno 45 quindi avrò la sfumatura messa con un angolo quindi opposto a quello creato prima è normale che nelle lezioni seguenti vi spiegherò bene anche queste tutte queste variazioni che possiamo avere al nostro alla nostre sfumature o comunque alle tinte che possiamo dare come riempimento adesso la terza tipologia di strumento che ci consente di colorare quindi una forma all'interno di illustrator e quindi vi sto parlando della trama che è forse il metodo di colorazione più complesso di illustrator ma sicuramente quello che vi consentirà poi alla fine di realizzare degli effetti che sembrano reali quindi fotorealistici lo strumento trama si trova qui e questo qui di sinistra è attivabile anche quindi tramite questo pulsantino e facciamo clic quindi su questo strumento prima selezioniamo la nostra forma vado a creare quindi una sorta di reticolato all'interno ecco scegliendo per esempio dei punti scegliendo quindi dei punti ho creato un reticolato all'interno all'interno di questa di questa forma possiamo quindi in questi spazi associare dei colori e quindi attraverso sempre il pannello dei campioni possiamo a questo punto selezionare un colore per esempio questo e questo colore viene applicato all'interno all'interno dei vari punti posso ancora intervenire su altri colori per esempio spostando quindi andando a trascinare questi colori semplicemente trascino i colori dal nostro selettore e posso fare quindi questi effetti ecco utilizzando quindi questi effetti di colorazione andiamo a intervenire sui bianchi ecco si gli diamo degli effetti di luce passiamo adesso ad un altro metodo di pittura molto interessante che possiamo sfruttare quindi all'interno di illustrator e sto parlando della pittura dinamica e spieghiamo velocemente che cosa consiste quindi in parole povere dobbiamo prendere qualsiasi disegno vettoriale ecco io ho questo disegno questo disegno lo dobbiamo convertire in gruppo di pittura dinamica quindi facendo così vado a selezionare il disegno vado su oggetto pittura dinamica crea quindi ho selezionato il disegno e l'ho creato in pittura l'ho convertito in pittura dinamica quindi praticamente ora questo disegno viene suddiviso in varie aree e quindi ora vi mostro rapidamente come funziona a questo punto attiviamo il secchiello che è questo possiamo anche attivarlo tramite il pulsante K il tasto K della tastiera e vado a scegliere dei colori notate che ho delle aree che possono essere colorate distintamente vedete? quindi scelgo dei colori ecco e vado a colorare con questi colori scelti quindi andiamo a prendere un un rosa eccetera eccetera quindi possiamo come vedete colorare un disegno suddividendolo in varie aree adesso passiamo a un altro metodo o comunque un'altra tecnica per colorare quindi possiamo farlo a partire da un elemento vettoriale quindi andiamo a prendere un elemento vettoriale che io già ho disegnato per voi ecco quindi e vi sto parlando dei pattern quindi posso creare con questo oggetto vettoriale dei pattern e modificare una serie di vari parametri questo disegno vettoriale verrà ripetuto all'infinito e quindi creando un pattern appunto con questo disegno allora andiamo su oggetto dopo aver selezionato il nostro disegno oggetto pattern crea facciamo ok ecco ci sono delle opzioni che ora possiamo modificare quindi abbiamo la possibilità di variare gli spazi e quindi di decidere vedrete alcuni spazi sia in verticale che in orizzontale ecco e quindi dare questi valori quindi possiamo ancora modificare da questo strumento quindi la tipologia del nostro pattern e una volta ottenuto il nostro pattern possiamo chiudere questa modalità e modificare quindi salviamo e copiamo ok ok quindi chiudiamo chiudiamo questa modalità e abbiamo il nostro partner qui salvato se lo notate è proprio qui quindi ora cosa possiamo fare possiamo creare una forma ecco possiamo creare una forma la ingrandiamo e possiamo nel momento in cui ho selezionato dare un pattern all'interno quindi della mia forma quindi quel pattern che avevamo creato prima è salvato ecco 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 Grazie a tutti.